Bentornati amici, il primo shooting del 2022 su cui vi voglio portare si è rivelato fin da subito il più difficile dell'anno. Bentornati signore e signori su questo canale, io vi invito prima di tutto a lasciare un bel like sulla fiducia e a iscrivervi a questo canale, attivate anche la campanella così non vi perderete i prossimi aggiornamenti. Andiamo subito a vedere come si è svolto questo shooting e vi preannuncio che si è trattato di un servizio fotografico in una condizione di illuminazione estremamente scarsa. Vediamo prima le cose facili e vi introduco anche una piccola novità, perché abbiamo qui la nuova, per me, in realtà non è nuova, è una camera abbastanza vecchia ormai, è la Insta360 X2, quindi una camera 360 che serve a fare panoramiche 360 con lo stitching automatico, l'ho trovata estremamente comoda, si utilizza tramite l'app integrata sul telefono, io uso il sistema iOS di Apple quindi non ho avuto assolutamente alcun problema a interfacciare il telefono con questa camera, ha funzionato sempre abbastanza bene, non mi ha mai dato problemi e realizza delle immagini molto molto carine. Vado a farvene vedere qualcuna, ecco che qui siamo all'interno dell'app e come potete vedere abbiamo una foto che è stata scattata, questa in particolare è una foto degli spogliatoi, come potete vedere attraverso l'app mi restituisce, attraverso la sensibilità touch del mio display mi restituisce l'intero ambiente, io posso posizionarmi come voglio e questa è una cosa che posso fare anche a computer perché esiste l'app dedicata, InstaStudio mi sembra che si chiami, con cui è possibile gestire queste cose a livello un pochino più professionale tramite computer, però devo dire che sono molto molto contento dell'app da telefono perché questa sostanzialmente fa tutto, io con questa app non ho bisogno di fare altre grandi cose perché se riesco a vedere le mie immagini e le posso esportare sostanzialmente ho tutto quello che mi serve. Andiamo a vederne qualcun'altra, come potete vedere questa qui è un'immagine scattata all'interno delle docce, ora da quest'immagine non riusciamo a farci un'idea di quella che era l'illuminazione, io vi assicuro che era veramente veramente scarsa l'illuminazione, per realizzare queste immagini io ho utilizzato la modalità foto HDR, è una funzione molto carina implementata all'interno di questa camera perché mi consente di decidere il bracketing che voglio utilizzare, mi consente di gestire alcuni parametri come per esempio l'autoscatto, questo sembra una stupidata ma è essenziale quando si realizzano panoramiche 360 di questo tipo perché io devo comandare la camera via remoto dal mio smartphone e devo avere il tempo di nascondermi dietro un angolo, altrimenti vengo fuori anch'io in tutte le immagini, quindi assolutamente non scontato. Ma io mi faccio prendere dall'emozione e dimentico che abbiamo dei capitoli da rispettare, parliamo un attimino di questo cliente. Innanzitutto il cliente viene preso dall'agenzia presso la quale io lavoro e viene acquisito tramite passaparola con altri clienti. Per quanto riguarda il cliente vero e proprio si tratta di una palestra in una zona molto centrale della città di Milano, una palestra che punta molto sul fatto di avere dei personal trainer dedicati, infatti il claim della palestra è fitness one to one. Si tratta proprio di un contesto in cui la cosa principale è che si ha una persona dedicata che ci segue. Andiamo a vedere che l'ambiente è molto particolare e suggestivo, si tratta di un edificio storico della città di Milano per cui uno dei punti chiave era sicuramente valorizzare questi interni che sono assolutamente inusuali. La richiesta fondamentalmente è quella di realizzare un servizio fotografico per il rifacimento del vecchio sito web ormai obsoleto. Quindi si va oltretutto a ripristinare il logo in vettoriale che non è più disponibile, il nostro cliente non ci dà il logo vettoriale per cui vado personalmente a eseguire non un restyling ma un recupero da un png un po' sgrauso, vado a recuperare il file vettoriale che poi ci serve per fare tutti i lavori, mentre il colore sociale lo recupero semplicemente dal sito web del cliente. Il materiale quindi servirà quasi esclusivamente per il rifacimento del sito web, per questo motivo si concorda che tutti i materiali vengano scattati in orizzontale perché serviranno per slider o comunque sezioni del sito che saranno visualizzate, si presume, prevalentemente da desktop. Lo shooting è sostanzialmente diviso in tre fasi perché la prima fase ve l'ho già anticipata. Prima fase, cavallettino, camera Insta360 e si fanno gli step all'interno della palestra e all'interno delle altre aree perché comunque c'è un'area fitness, c'è un'area pilates e poi ci sono gli spogliatoi. Quindi si camminano tutte le aree con il nostro cavallettino e si fanno le foto 360 posizionandoci in dei punti chiave, scattando da remoto con il telefono. Modalità HDR, questo perché siamo in un ambiente dove la luce è veramente poca, quindi abbiamo dei punti luce, sono le poche luci, i fari che sono posizionati, che sparano tantissimo e poi abbiamo le aree d'ombra invece che sono buio pesto, per cui senza HDR viene fuori una porcheria incredibile, quindi obbligatorio. La parte 360 è abbastanza agevole perché comunque questa camera è automatica, la Insta360 è automatica, quindi fa tutto da sola, io devo solo controllare che sia posizionata bene e non ho neanche tanto margine per controllare che sia posizionata bene in realtà, perché una volta accesa io non vedo più esattamente dove punta, ma vedo una panoramica sul cellulare che si muove oltretutto perché appena la tocco col dito rimane sfasata e non ho più esattamente la percezione di quello che è il dritto, quindi mi baso molto sulla direzione, ormai l'ho già usata qualche volta, quindi diciamo che in qualche maniera so dove è puntata. Non è precisissima nel puntamento, ma tanto si basa poi sul fatto che comunque sarà una panoramica a 360 gradi, quindi non importa dove è puntata perché si vedrà comunque l'intera stanza. Procediamo con la registrazione e l'acquisizione di alcuni video per la realizzazione dei quali è stata usata ovviamente un'illuminazione supplementare perché altrimenti i video sarebbero stati nobui di più, sarebbero stati pieni di rumore, quindi illuminazione supplementare, panoramiche degli ambienti e esercizi eseguiti dai personal trainer che lavorano presso la struttura. Questi non ve li faccio neanche vedere perché non è di questo che vi voglio parlare, poi non sono ancora terminati, l'editing non è ancora terminato, quindi non sono pronti, ne parleremo magari in un altro video. Quello di cui mi interessa invece parlarvi è lo shooting vero e proprio, quindi con la Canon 5D e il 1740 serie L. Questo è il mio solito setup quando faccio fotografia di interni statica, quindi ho il mio treppiede Manfrotto, ho il mio RC6 che ha il comando remoto per far partire la camera senza dover toccare il bottone. Quello che si fa è che ci si posiziona prevalentemente negli angoli perché di solito, almeno a me personalmente quando faccio fotografia di interni piace molto fare gli angoli, per cui per intenderci, diciamo finta che il frame sia alla camera, ci si posiziona nell'angolo, ci si posiziona nell'angolo, ci si posiziona nell'angolo, ci si posiziona nell'angolo e si fanno gli angoli, nel senso che si fotografa la stanza dall'angolo in maniera tale da avere la visuale maggiore possibile, di prendere più ambiente possibile. Si fanno tutti gli angoli se è possibile, se è lecito ovviamente perché magari ci sono certi angoli che sono proibitivi, magari ci sono certi angoli occupati da macchinari mobili, oppure sono inagibili, oppure fotografando da quell'angolo si prende qualcosa che non si vuole fotografare, quindi se si può si fanno tutti gli angoli. E se c'è qualcosa di bello disposto in maniera simmetrica si fanno anche le mediane. Di solito questo è quello che faccio io, poi si fa qualche dettaglio, si possono decidere i dettagli in base a quello che c'è ovviamente, se c'è un mobilio particolare, delle insegne, qualcosa di caratteristico si fanno i dettagli. I dettagli per come la vedo io non sono obbligatori quando si fa fotografia di interni, in questo caso però qualche dettaglio era assolutamente richiesto perché qui non è fotografia di interni pura, ma diciamo che è un tipo di fotografia che fa vedere gli interni ma deve servire a corroborare l'immagine della palestra sul sito, quindi qualche dettaglio andava sicuramente fatto visto che abbiamo una struttura con un arredo abbastanza particolare. Parlando delle difficoltà, ma fondamentalmente ve le ho già dette, la difficoltà principale è che non c'era luce, fondamentalmente non ce n'era proprio, era buio pesto perché comunque avevamo dei faretti che però erano dei coni di luce che illuminavano un'area di un metro intorno al cono, non andavano oltre, quindi avevamo degli angoli che erano completamente bui. Ovviamente che cosa succede in un contesto del genere? E se io espongo per le luci ho la foto completamente nera con i punti luce giusti, se invece espongo per l'ambiente ho l'ambiente giusto con i punti luce che sono completamente bruciati, completamente bianchi. Quindi qui si lavora di fino di HDR per cercare di avere un'esposizione più corretta possibile. Io non sono contentissimo di questo shooting, nel senso che è uno shooting che va bene, ho anche confrontato con le foto che c'erano prima sul sito vecchio e comunque mi sono detto vabbè dai, è comunque meglio di prima, è un miglioramento in dubbio. Il fotografo che era venuto prima non penso avesse usato l'HDR, penso che avesse fatto un'esposizione normale. Comunque meglio di così era veramente difficile fare perché il range dinamico anche espanso della camera con i tre scatti in bracketing non era sufficiente. Avrei potuto fare cinque scatti però andavo fuori dai tempi e poi soprattutto diventava un po' artefatta la cosa perché è evidente che siamo in una situazione di fortissimo contrasto quindi non volevo neanche esagerarlo troppo. Diciamo che così con un bracketing normale da due stop perché la 5D Mark II arriva fino al bracketing da due stop, questo è il risultato che sono riuscito a portare a casa, diciamo che va bene così. In un contesto ideale, se avessi avuto un cavalletto un pochettino più solido e una pavimentazione che me lo consentisse avrei usato la rotella per farmi il bracketing in automatico ma non ho voluto correre questo rischio perché c'era il parquet, era un contesto con... era un edificio molto vecchio e c'era un parquet anche un po' soffice quindi ve l'ho già detto in tanti video, io ho il terrore del parquet perché tu metti il tuo cavalletto per fare le pose lunghe e poi sposti il peso da un piede all'altro e la foto è rovinata. Qui a maggior ragione se avessi dovuto toccare la ghiera a ogni foto per farmi il bracketing in automatico è un rischio che non ho voluto correre, mi sembra che lo shooting sia venuto bene così. Così almeno sono sicuro che sono tutte a fuoco perché altrimenti era un rischio e non ho voluto prendermelo. Mi soffermerò molto poco sulla post-produzione perché è stata veramente molto semplice per quanto riguarda le foto HDR realizzate con l'Insta360 la post-produzione è sostanzialmente assente nel senso che stiamo parlando di una camera che fa quasi tutto in automatico che compatta automaticamente gli stitching delle due foto a camera a fronte e retro che ha fatto e che fa il merge automatico dei bracketing HDR che ha catturato quindi nel momento in cui io infilo la mia scheda per andarmi a prendere i file mi trovo tantissimi file spacchettati e le posso aprire solamente tramite la sua app dedicata su computer però io ho scoperto una via più rapida nel senso che se io apro le fotografie dall'app del telefono e poi me le esporto come foto 360 sul telefono lui mi esporta la foto 360 HDR sul telefono in qualità quindi poi io dal telefono con airdrop me la mando sul computer e ho tutte le mie foto già fatte sostanzialmente perché l'HDR me l'ha fatto lui in automatico lo fa abbastanza bene cioè io non avrei niente di più da dirgli nel senso che comunque gestisce le luci e le ombre lo fa secondo me in maniera egregia e soprattutto mi evita di farlo io lo fa in una maniera tale che è assolutamente presentabile quindi da quel punto di vista non è stato fatto praticamente nulla se non esportarle sul telefono e poi mandarle via airdrop sul computer un pochino più complesso è stato il procedimento invece per correggere e sistemare le fotografie scattate con la 5D in questo caso non voglio farvi passare il messaggio che lavorare con un'attrezzatura professionale crei più problemi però di fatto certe volte è così nel senso che scattare con una strumentazione professionale qui stiamo parlando sostanzialmente di una miraglia anche se di diversi anni fa con una lente anche molto buona perché è una lente serie L anche se mi sembra di ricordare che sia la meno costosa in assoluto del parco serie L di tutti i tempi però comunque è una bella lente qual è il problema qua? abbiamo due diversi problemi il primo ve l'ho già detto stiamo scattando in un piano interrato con pochissima luce quindi ovviamente l'HDR con il bracketing al massimo è stato obbligatorio altrimenti non si cavava niente la post produzione qui è assolutamente necessaria perché come mi viene anche segnalato dal cliente loro vogliono delle foto luminose nonostante il posto sia molto molto buio quindi scattiamo in HDR e bisogna fare il merge to HDR dentro Camera Raw o dentro qualunque programma di editing di foto si stia utilizzando nel mio caso è Camera Raw di Photoshop quindi la prima cosa che io faccio applico il mio solito preset per la nitidezza su tutte le immagini applico il mio preset per la riduzione del rumore che in questo caso è il mio preset da riduzione del rumore bassissima visto che sto scattando ISO 100 dopodiché mi metto a unire a 3 a 3 tutte le foto per avere le fotografie HDR a questo punto c'è uno step ulteriore che vado a fare direttamente in Camera Raw lo vado a fare direttamente è una cosa che ho introdotto di recente perché di recente ho seguito una branca nuova del corso di fotografia di interni di Charlie Borland di cui non smetterò mai di parlarvi perché ringrazio infinitamente un corso che ho acquistato su Udemy e che mi è piaciuto tantissimo come forse saprete su Udemy ogni tanto per i corsi che abbiamo già fatto vengono rilasciati degli update quindi magari esce una tecnologia nuova o il docente implementa qualcosa di nuovo fa un pezzo di corso in più di cui noi usufruiamo gratuitamente perché abbiamo già pagato il corso intero e ci arriva la notifica che c'è un pezzo nuovo quindi io sono andato a vedermi questo pezzo nuovo e ho scoperto una cosa che è molto migliorativa nel mio flusso di lavoro una cosa che ha introdotto anche il buon Charlie che ringrazio di nuovo quello che è stato introdotto è la possibilità che in realtà esisteva già però è stato introdotto adesso perché lui ha cominciato a utilizzarlo adesso e di conseguenza anche io ho degnato questa parte della mia attenzione si tratta della correzione della prospettiva direttamente sul file RAW ora laddove è vero che questa tecnologia ha dei limiti ve ne dico uno in particolare nel momento in cui noi raddrizziamo le geometrie direttamente sul RAW è possibile che rimangano degli angoli scoperti perché deformando l'immagine rimangono dei pezzettini magari vuoti quindi dei pezzettini che poi in export risulteranno bianchi perché lì non ci sono più informazioni però la foto deve stare comunque in un rettangolo e quindi ci sono delle parti che possono venire tagliate per evitare questo si tende a strecciare la foto e cercare di allargarla in maniera tale che riempia tutto lo schermo questo ovviamente se stiamo correggendo una distorsione estrema è quello che può succedere e ci porta a allargare di molto l'immagine e quindi a perdere molti dettagli sui bordi questa è una cosa che utilizzando Photoshop succedeva di meno agendo direttamente in camera RAW succede un pochino di più però in un video successivo andremo a vedere come si può bypassare questa cosa adesso non ve ne parlo qui perché sennò diventa troppo lungo rimanete aggiornati se volete sapere come bypassare questa cosa per quanto riguarda questo shooting in particolare si trattava di fotografia di interni quindi era una cosa molto tranquilla ho avuto tutto il tempo di posizionarmi con il mio cavalletto e quando si fanno le foto di interni si fanno già abbastanza dritte quindi se la foto è già abbastanza dritta io devo fare una correzione in post produzione che è veramente veramente minima quello che succede è che va a posto da sola va perfettamente dritta da sola quindi questo metodo mi permette innanzitutto di non dover più aprire Photoshop cioè io una volta che ho fatto la mia post produzione su tutte le mie immagini ho fatto merge to HDR quindi ho tutte le mie foto ho tutti i miei DNG HDR una volta che io ho finito questa lavorazione e le ho anche raddrizzate le esporto non le devo più aprire in Photoshop per raddrizzarle tutte perché l'ho già fatto contestualmente mentre facevo l'HDR questo mi fa da un lato risparmiare un sacco di tempo e dall'altro la vera cosa che mi interessa lavorando direttamente sul RAW la caduta qualitativa è minore rispetto che lavorando sul JPEG se io sto lavorando il JPEG per correggere la distorsione ho una caduta qualitativa che è molto maggiore invece così lavorando sul file RAW la caduta qualitativa è molto molto limitata e questo è il vero miglioramento che mi piace molto al di là del fatto che mi fa risparmiare tempo quindi sono comunque contento allora vi devo dire in tutta onestà che oggi una foto preferita non ce l'ho nel senso che sono tutte bene o male sono giuste cioè sono come le volevo la palestra è stata riordinata quindi siamo stati lì a vedere che fosse tutto a posto tutto in bolla quindi non ne ho una che mi piace più delle altre ve ne faccio vedere una giusto tanto per ma non ne ho una vera e propria preferita sicuramente posso dirvi che questo è uno shooting che mette un po' alla prova innanzitutto perché si viene dalle vacanze sostanzialmente cioè io mi sono fatto la vacanza lunga nel senso che ho comunque sempre lavorato pure il giorno di Natale a momenti però sostanzialmente era da metà dicembre che non c'erano shooting importanti sì ho fatto in realtà ho fatto ho fatto uno shooting di medicina per un mio cliente chirurgo questa era una però era una cosa più easy perché era una cosa così in casa molto tranquilla la sera con una modella quindi era una cosa molto più easy questo era il primo shooting dove c'era un pochino di fretta perché avevamo un cliente che aveva il negozio aperto quindi che aveva fretta di finire con la gente che doveva andare e venire quindi è stato il primo shooting da metà dicembre e adesso siamo siamo al 5 di febbraio vabbè non è stato fatto il 5 di febbraio è stato fatto il 2 l'1 il 2 di febbraio questo shooting però insomma capite che è passato un mese e mezzo quindi un pochino si perde l'addestramento nel senso che ci si lascia un po' andare e quando ricapita uno shooting oltretutto ho fatto molta fatica a impacchettare le cose ho dovuto fare una cosa che non avevo mai fatto e che credo che rifarò però ho preso un foglio di carta e ho disegnato proprio una cosa schifosa ho disegnato le icone dei pezzi che mi dovevo portare quindi la camera la lente il treppiede la lucetta la camera 360 ho proprio disegnato tutti i pezzettini ho disegnato di fianco il mio zaino e poi ho cercato di capire come incastrare quelle cose dentro nello zaino una cosa che prima non facevo perché prima mi andava in automatico questa volta ho dovuto fare questo passaggio in più perché altrimenti non mi veniva bene e così mi sono reso conto che potevo ottimizzare molto il mio zaino per la verità quindi per questo lo rifarò perché mi sono proprio reso conto ho detto però aspetta queste due cose non è necessario che io le porti tutte e due posso portarne una sola e una volta che sono lì poi faccio prima una cosa poi smonto e uso lo stesso pezzo per fare un'altra cosa quindi disegnare quello che ci si sta portando e disegnarlo secondo me è più importante che scriverlo perché un elenco diventa grigio tipografico mentre vedere proprio le icone ovviamente disegnate male adesso poi magari lo rifarò con le icone bene in illustrator eccetera eccetera però le ho proprio disegnate male perché non sono un disegnatore quindi per fare la camera facevo un quadrato con dentro un cerchietto intendiamoci però mi ha fatto proprio capire gli spazi le cose che mi stavo portando e come gestire tutto quanto al meglio quindi è una cosa che non per tutti gli shooting perché se devo fare una roba easy che mi porto una borsa e basta non lo faccio ma se è una cosa dove devo cominciare a dire sono tre borse una con gli stativi una con le luci una con le can ecco lì comincia a essere necessario magari un pochino di pianificazione di struttura su come impostare la borsa perché si fa meno fatica cioè intendiamoci perché faccio tutto questo perché mi sono detto ok la zona è una zona centrale il posteggio non si troverà quindi dovrò andare in un autosilos ho guardato l'autosilos su maps e mi sono detto ok è un po' distante non è proprio attaccato quindi che cosa faccio cammino con 40-50 kg per 900 m l'ho già fatto una volta l'anno scorso non lo voglio rifare non mi è piaciuto e quindi ho detto la distanza è tanta non ci posso fare niente sono da solo nessuno mi aiuta che cosa faccio devo ridurre il carico riduciamo il carico in maniera tale da portare a termine il lavoro e quindi dico magari cosa faccio mi porto una luce una luce led da 666 tubi led con lo stativo oppure mi porto una lucetta un quarzetto più piccolo a batteria che sta senza filo senza niente mi porto quello più piccolo perché quello più piccolo sta nella tasca della borsa e così non devo più portare lo stativo in più e non devo più portare la luce che è grossa così e che non stava in nessuna borsa tutto questo mi ha fatto migliorare il processo produttivo ho fatto un viaggio solo dalla macchina un viaggio solo fino alla sede del cliente magari altrimenti dovevo fare tre viaggi quindi questa cosa mi è piaciuta e importante a livello di considerazioni finali posso anche dire che ho avuto una piccola disavventura nel senso che la mia seconda camera che era la 80D aveva una scheda di memoria SD e visto che aveva raggiunto le 10.000 foto cioè 9.999 foto allora molti di voi lo sapranno già quando si raggiungono le 10.000 foto quello che succede è che si riparte da 1 si riparte da 0.0.0.1 questo fa sì che nella scheda di memoria si crei automaticamente una nuova cartella quindi stavamo scattando nella cartella 80D si crea automaticamente una cartella 80D1 all'interno della quale vengono numerate le foto a ripartire da 1 quindi 0.0.0.1 0.0.0.2 eccetera eccetera questo però mi ha creato un conflitto sulla scheda di memoria nel senso che la scheda di memoria ha frazionato la memoria interna per cui a un certo punto mi sono ritrovato senza memoria perché la scheda di memoria leggeva uno spazio limitato che era presente all'interno della cartella mentre non leggeva più lo spazio presente nell'altra cartella questo è un problema che non mi era mai capitato e io lo risolverò semplicemente formattando la scheda perché così riparto da zero cancello tutto quello che c'è sopra e mi ritorna la mia scheda da 64GB e sono a posto così però è una cosa da tenere a mente d'ora in poi quando mi rendo conto che sto arrivando verso le 10.000 foto formatterò la card a prescindere perché altrimenti continuo a incorrere nel rischio magari di essere fuori durante uno shooting e mi ritrovo in una situazione in cui la mia memoria viene magari dimezzata perché si crea una seconda cartella che è una partizione non so se sia capitata anche a voi una cosa del genere vi invito nel caso a farmelo sapere su che sistema e come l'avete risolto perché è una cosa interessante dal punto di vista che non mi era mai successo e se è una cosa che succede sicuramente è una cosa che va indagata e conosciuta perché non possiamo lasciare questo tipo di cose al caso io non posso uscire con la memory card vuota sostanzialmente e poi trovarmi metà della memoria perché c'è stata una partizione del sistema se stavo facendo video era un disastro quindi assolutamente da evitare una cosa di questo tipo oltretutto il bug che c'è stato è stato anche che se io aprivo il viewfinder per vedere i file esistenti sulla camera non mi faceva vedere i file della prima partizione quindi non potevo neanche dire che uno dice si cancelli qualcosa delle cose vecchie non potevo nemmeno più farlo perché mi leggeva solo la cartella la cartella creata sul momento non mi leggeva più tutta la cartella vecchia quindi situazione un po' bruttina per fortuna avevo un'altra SD però insomma è una cosa comunque da conoscere perché magari uno non ce l'ha un'altra SD magari l'ha già usata l'ha già riempita quindi è una cosa secondo me da tenere sott'occhio bene amici con questo siamo arrivati alla fine di questo breve video che vi racconta il primo shooting dell'anno nuovo per ora il più difficile dell'anno nuovo spero che sia in discesa da adesso perché un contesto di luce così dinamica così contrastata non l'avevo mai riscontrato se non forse in un video precedente vi invito a indovinare quale vi invito anche a questo punto se non l'avete ancora fatto a lasciare un like a questo video che ormai non è più sulla fiducia perché ormai l'avete guardato tutto iscrivetevi anche attivate la campanella così non vi perderete i prossimi aggiornamenti signori se ne vedranno delle belle in questo 2022 su questo canale e io vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al nostro canale